Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del Tg Versilia. Oggi Viareggio ha dato l'ultimo saluto ad Elio Tofanelli, presidentissimo del Carnevale. L'addio alla cittadina del Carnevale per i funerali laici. Presente una folla di persone, amici, tanti sostenitori, amici del partito e tantissimi carnevalari. Presente le massime autorità cittadine a partire dal sindaco Giorgio Del Ghingaro che ha annunciato l'intenzione di dedicare a Elio Tofanelli una strada, una piazza, un luogo simbolo della città o addirittura della cittadella. Partiamo dagli interventi delle istituzioni e dalle prime immagini di questa cerimonia trasmessa in diretta su Rete Versilia News. Con Elio Tofanelli scompare un grande personaggio della Versilia. Amministratore intelligente dall'entuito politico spiccato, inesausta analista dei problemi locali, dirigente sportivo di razza, ragionatore vero e innamorato del Carnevale. Questo è stato Elio fino all'ultimo respiro. Viareggio Doc ereditò dal padre Fernando, straordinario personaggio e compositore di musica carnevalesca, la passione per burlamacco. Elio Tofanelli è deceduto il giorno di Natale, all'età di 79 anni, e subito la notizia della sua scomparsa si è diffusa in tutto il territorio. Questo pomeriggio alla cittadella, a rendere omaggio al presidentissimo del Carnevale, è stata la città di Viareggio, con le sue massime istituzioni, colleghi avvocati, maestri della cartapesta e tutti coloro che hanno i coriandoli nel sangue. E' stato al vertice della Fondazione Carnevale per dieci anni, dieci anni durante i quali niente è stato dato per scontato. Mi chiedo, cosa resta di un uomo che ha attraversato 80 anni di vita della sua città? Resta l'aver molto e molto intensamente vissuto. Restano le decisioni prese, anche quelle sbagliate, perché capita di sbagliare a chi decide di non stare fermo e si assume la responsabilità delle proprie azioni. Resta comunque l'estro, l'impulso, la fantasia. Davanti a questo presidente non esistono altri presidenti. Noi possiamo essere soltanto degli allievi, dei fedeli esecutori di quello che era il suo racconto e la sua storia del Carnevale, della cittadella, della sua tradizione e del suo futuro. Io lo ricordo, è un ricordo che ho bellissimo, nitido, di una persona che per il Carnevale, per la Fondazione, avrebbe fatto qualsiasi cosa. E' la grande determinazione, il grande amore per questa manifestazione, per la città, nel crederci in tutti i modi, in qualsiasi occasione, sia dal punto di vista televisivo, dal punto di vista mediatico. Con la scomparsa di Elio Tofanelli se ne va davvero il prototipo dell'uomo pubblico nella sua accezione più alta e più nobile. E in tanti sono arrivati alla cittadella per rendere omaggio a Elio Tofanelli, personalità legata alla politica, legata allo sport per il quale si era prodigato in molto lo stesso Tofanelli in città. Tanti ricordi, tanti aneddoti che hanno raccontato anche ai nostri microfoni. Sentiamo. Ci sono personaggi che hanno fatto la storia dell'arte, della letteratura, della scienza, ma anche figure locali che sono riuscite a lasciare un segno indelebile nella vita di una piccola comunità. E' il caso di Elio Tofanelli, il presidente del Carnevale per eccellenza, che nel pomeriggio ha ricevuto negli hangar della cittadella l'ultimo, sincero, commosso abbraccio della sua città, Viareggio. Tofanelli non era solo un ottimo presidente della fondazione, era anche un professionista serio. Una persona di una grande umanità, di un grande amore per Viareggio, per la città tutta, in modo particolare per il Carnevale. Soprattutto un grande amico. Noi dall'80 che abbiamo diviso le nostre sorti politiche, amministrative. Che cosa ha dato allo sport Elio Tofanelli? Ha inventato il Ducla, ha fatto non solo sport, però ha fatto il Ducla, il Carnevale, tante cose. Elio Tofanelli ha dato tantissimo anche al vostro circolo il fienile nel quartiere Varignano. A dire tantissimo è poco, secondo me, perché io non ricordo gli anni che Elio è stato il sindaco revisore, il presidente dei sindaci revisori, e poi ha sempre dato un contributo molto, molto forte. Lo spirito del Viareggio era nel cuore di Elio Tofanelli. È stato il mio primo presidente, sono stati dieci anni comunque importanti, dove il Carnevale andava abbastanza bene. Il Carnevale l'aveva veramente nelle vene, insomma, era il famoso detto, un po' retorico, i coriandoli nel sangue. Beh, lui ce l'aveva. I ricordi e anche, soprattutto, la preparazione della presidenza di Tofanelli, che non è nata per caso, ma arrivò dopo un lunghissimo lavoro di raccordo fatto da Elio con la città. Io fui nominato vicepresidente del Viareggio Calcio, ed egli era l'avvocato del Viareggio Calcio, e faceva tutto, perché sapeva tutto, oltre a intendersene molto di calcio. A Elio Tofanelli, per il grande impegno profuso al servizio del Carnevale, della vita pubblica della città e dello sport, il sindaco del Ghingaro, la presidente della Fondazione Marcucci, e l'ex assessora del sociale, Rossana Rosso, vorrebbero intitolare uno spazio legato al Carnevale. Si è parlato della cittadella, di una strada in quell'area e di un edificio. D'altronde, Elio era un'anima gentile e generosa, oltre che un brillantissimo carnevalaro. Voltiamo pagina, veniamo alla cronaca di questi giorni, anche in queste giornate di festività natalizie, con un uomo di 58 anni che a bordo di un ape si è capottato domenica sera, la sera di Natale, alla rotatoria della cittadella del Carnevale, a Viareggio, è finito in un fossato ai lati della strada, si è procurato un trauma cranico e facciale, portato al pronto soccorso da un'ambulanza e dal 118, l'automedica arrivata sul posto è stato trasportato in codice rosso, le sue condizioni, almeno in un primo momento, sono apparse piuttosto gravi. E' un fatto di cronaca avvenuto in questi giorni di Natale in Pineta a Viareggio, tre giovani ventenni palermitani che volevano acquistare dell'ascis per andare a trascorrere una serata in discoteca, in vacanza in Versilia, hanno contestato ai venditori extracomunitari nella zona della Pineta la qualità della droga, da lì è storto una violenta lite, gli spacciatori, secondo quanto raccontato dai giovani alla polizia, le avrebbero minacciate con delle catene, provocando per fortuna solo lievi ferite, tanto da non essere neppure necessario il trasporto al pronto soccorso del Versilia. Gli spacciatori però sono dati alla fuga, nonostante le ricerche di polizie e carabinieri, di loro al momento non c'è traccia, almeno per adesso. E sempre per la cronaca, la microcriminalità che non si ferma neppure a Natale, pensate il giorno di Natale, è stato sorpreso un cinquantenne albanese a rubare elemosine in chiesa. Sentiamo. I ladri non vanno in vacanza, è proprio vero, neppure il giorno di Natale. Un uomo albanese di 50 anni è accusato di aver rubato in una chiesa del centro di Viareggio nella giornata del 25 dicembre. Non era passata inosservata ai fedeli la strana presenza dell'uomo, che già da qualche giorno si tratteneva a lungo nella chiesa, soffermandosi proprio in prossimità degli offertori. Trafficava furtivamente, spostandosi rapidamente da uno all'altro. Il giorno di Natale però un fedele ha deciso di telefonare al 113, fornendo una descrizione dell'uomo che si era appena allontanato dalla chiesa. Il cittadino albanese è stato immediatamente rintracciato da un equipaggio della squadra volante e trovato in possesso di una rotella metrica. All'estremità era stata rivestita con un nastro biadesivo per pescare gli spiccioli all'interno delle cassette delle offerte. Era riuscito a raccimolare 34 euro in monetine. In una tasca dei pantaloni è stata anche rinvenuta una dose di cocaina. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato. Le offerte sono state riconsegnate al parroco. Ladri in azione, anche lontano dalle chiese, in questo ponte natalizio. È stato il quarto furto in sei mesi per il ristorante La Tuviareggio in via Pucci. I gnoti hanno portato via gli spiccioli dalla cassa e alcune bottiglie di vino. È stato visto scappare un extra comunitario in bicicletta. Sul posto sono intervenute le guardie giurate e le forze dell'ordine. E questa è la notte di Natale. Facendo invece un passo indietro alla vigilia una fiumana di persone invaso il centro storico di Pietrasanta per la notte della vigilia. Il camel ponch secondo il comune 5.000 persone, 7.000 invece secondo le forze dell'ordine. Comunque è un successo, vedete anche da queste foto davvero tantissime persone. Non si sono registrati interventi del 118. È un record come sottolinea l'amministrazione comunale di Pietrasanta che molto aveva investito nei rinforzi sul fronte sicurezza e anche sul fronte dei controlli all'etilometro. Come vedete ci sono state anche postazioni dedicate a coloro che prima di mettersi di nuovo alla guida appunto avessero voluto verificare il loro stato in quanto ad alcol. Dunque un bilancio più che positivo. 200 bottiglie in vetro che sono state sequestrate da parte della Polizia Municipale. Ricordiamo l'ordinanza del Sindaco Mallegni obbligava anche i locali a distribuire bevande alcolici solo e esclusivamente in bicchieri di plastica. Intanto passato il Natale si pensa al San Silvestro con le feste che ci saranno in piazza una tradizione che si rinnova come quella dei botti di Capodanno anche se quest'anno c'è una polemica ancora più accesa sulle ordinanze che negli anni scorsi i sindaci erano soliti firmare ordinanze che sono ritenute illegittime e dunque si attende di capire dove e come si potranno fare i famosi botti di Capodanno. Vediamo questo servizio. Anche quest'anno scoppiano i botti di Capodanno e ancora una volta prima ancora di esplodere la notte di San Silvestro fanno rumore per le ordinanze firmate dai sindaci. Sono illegittime secondo una circolare emessa dal Ministero degli Interni il 9 dicembre e inoltrate in questi giorni dalla Prefettura di Lucca ai comuni della provincia. Il divieto di fuochi d'artificio, fioccato in tantissimi comuni italiani in questi anni è stato impugnato al TAR dalle associazioni di categoria degli operatori pirotecnici. I sindaci che firmano come in passato le ordinanze di divieto assoluto a questo punto nulle rischiano addirittura una denuncia per abuso di potere. Eppure a Viareggio il sindaco De Ghingaro per il secondo anno consecutivo ha firmato un'ordinanza che vieta botti e fuochi d'artificio di ogni genere dal 30 dicembre al giorno del 7 gennaio, salvo specifiche autorizzazioni. Pena una sanzione che va dai 25 ai 500 euro. Il provvedimento, si legge nell'ordinanza, è stato preso ai fini della tutela dell'incolumità pubblica per la sicurezza urbana, ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e per la protezione del patrimonio pubblico, dei cittadini e infine degli animali. Più cauto il sindaco di Camaiore del Dotto, che con un'ordinanza limitato fino alla Befana, l'uso di tutti i tipi di botti solo nei centri abitati. Non si tratta quindi di un divieto assoluto, ma di una regolamentazione che promuove l'utilizzo di fuochi artificiali illegali nelle proprietà private. A Massarosa i botti sono vietati solo in prossimità di luoghi sensibili. Ancora da capire cosa decideranno di fare gli altri sindaci della Versilia. E a proposito di Capodanno, confermata come sapete la festa in piazza, anche a Forte Remarmi, Capodanno sotto il Fortino, in piazza Garibaldi. Lo ricorda il comune di Forte Remarmi a pochi giorni dalla festa. Si partirà con alcune iniziative nel primo pomeriggio alle 14.30 per i più piccoli. Musica dalle 18.00. E poi ovviamente ci sarà il Conta alla rovescia, la mezzanotte. Musica fino a notte inoltrata. Ci spostiamo adesso con le immagini a Lucca. Visita dei parlamentari di zona del Partito Democratico al carcere di San Giorgio. Situazione che sembra migliorata rispetto allo scorso anno. Sentiamo. Come di consueto durante le festività natalizie, una delegazione di parlamentari del PD si è recata in visita ispettiva presso il carcere di San Giorgio. Le onorevoli Granaiola e Mariani insieme al senatore Marcucci hanno avuto un incontro con il direttore ed insieme alla garante per i detenuti hanno preso atto delle criticità della struttura e delle migliorie effettuate dopo i solleciti delle scorse visite. Su tutti il dato che è emerso quest'anno è l'alta percentuale di carcerati provenienti dall'area versiliese. In Versilia, ahimè, i problemi sono tanti. Infatti il numero maggiore dei detenuti viene da lì per questioni legate allo spaccio e quindi credo che sia importante anche fare un lavoro di prevenzione. Dico sempre che il migliore investimento è la prevenzione. Se un territorio si controlla in modo adeguato prima, forse si evitano tanti atti di microcriminalità o anche di criminalità importante. Migliorata invece la situazione per quello che riguarda i numeri della popolazione carceraria, come sottolineato dall'onorevole Mariani. Il numero dei detenuti si è ridotto tantissimo, per cui la qualità della vita all'interno del carcere è migliorata, sia per i detenuti che per gli operatori. Secondo noi il lavoro sta avvenendo in maniera di qualità, miglior qualità insomma. Il senatore Marcucci ha evidenziato l'esigenza di una maggiore integrazione della struttura carceraria nella comunità, per migliorarne la funzione di recupero. Ci vuole maggior rapporto con le istituzioni territoriali perché questo permette poi una riabilitazione e un reintegro successivamente. Uno dei problemi che emergeva anche oggi è che spesso i detenuti per la fine sono i soliti che tornano, quindi vuol dire che la funzione di reinserimento ancora oggi non funziona. Il governo potrebbe approvare a gennaio l'attesissima riforma delle spiagge che i balneari italiani della Versilia ormai attendono da molto tempo, intanto a Camaiore si cerca di mettersi in regola e di ottenere le proroghe per le concessioni. Il punto nel servizio. Il 2016 per gli oltre 450 balneari della Versilia si chiude con una buona e con una cattiva notizia. La buona nuova l'ha annunciata pochi giorni fa Giorgio Mussoni, presidente Oasi Confartigianato Nazionale, dopo aver incontrato alcuni membri del governo. Entro il mese di gennaio la legge delega sulla riforma delle concessioni balneari arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri per essere approvata. La cattiva è l'ennesima doccia fredda da Bruxelles, dove la Commissione sembra aver bocciato l'idea di un indennizzo per i concessionari uscenti, dopo le evidenze pubbliche in Italia. Intanto, in vista della fine del 2016, sono 83 le richieste pervenute al Comune di Camaiore per la proroga delle concessioni demaniali ad uso di stabilimenti balneari, colonie marine e locali commerciali da disciplinare con atti formali della durata massima di 20 anni. 83 su un totale di 98 bagni che si affacciano sulla renile di Lido. Un atto che consente di ammortizzare opere nuove o già realizzate negli stabilimenti. Una risposta concreta alle nostre imprese familiari la definisce soddisfatto il sindaco Alessandro Del Dotto, che incoraggia il comparto dei balneari, che sta attraversando un momento di grande incertezza rispetto alla quale, conclude il sindaco, spero che la politica nazionale sappia presto mettere la parola fine. Intanto il sindaco di Camaiore ha firmato un'ordinanza per il divieto di abbruciamento all'aperto di residui vegetali, dispositivo che ha validità dal 28 dicembre al 1 gennaio, salvo eventuale proroga. L'obiettivo è ridurre il rischio di superamento dei valori limite per il parametro delle polveri sottili PM10, segnalato da Arpat. Oltre al divieto si invitano comportamenti virtuosi come la riduzione a 9 ore del funzionamento degli impianti di riscaldamento, si legge in una nota del comune di Camaiore, ma anche l'impostazione a 18 gradi dei riscaldamenti e lo spegnimento del motoro e delle auto se in sosta prolungata. Ci spostiamo adesso a Forte Remarmi, dove l'arte scende in strada e va a cercare i bambini, i più piccoli, grazie ad un'iniziativa della Marguttiana e del comune di Forte Remarmi. Vi vediamo a servizio con le immagini e le interviste di Paolo Barberi. Pastelli, matite, carta e pennarelli. I bambini si fanno artisti a Forte Remarmi, disegnano ed espongono direttamente in strada, grazie all'iniziativa dell'Associazione Culturale La Marguttiana. In questi giorni di festa, a pochi passi dal Fortino, è stato allestito un gazebo per avvicinare i bambini al disegno e all'arte. La centralissima via Pascoli, da sempre teatro estivo di numerose esposizioni, prosegue la sua attività così anche in inverno, con una mostra di pittori contemporanei e con il coinvolgimento dei più piccoli. Ho notato una cosa stupenda, che è praticamente la creatività di questi bambini. Questo è un insegnamento per qualsiasi pittore che oggi mi sente e sa benissimo cosa vuol dire arrivare a questo. Pea, poi Montale e naturalmente anche Carrà, i quali hanno detto che questa strada, via Pascoli, deve diventare un domani una comunicazione diretta dell'arte con il pubblico. Presenti nei giorni scorsi allo stand anche il vice sindaco Michele Molino e l'assessore alla cultura Rachele Nardini per un'iniziativa che si inserisce negli eventi di Natale al Forte organizzati dal comune. I bambini si possono fermare a disegnare e quindi ad avvicinarsi all'arte insieme magari ai loro genitori e a tutti coloro che desiderano esprimere su un foglio, attraverso i colori, attraverso i tratti della matita, un'espressione artistica o comunque tradurre il loro pensiero, un'emozione legato al Natale o ad altri argomenti. Un'iniziativa che era già stata svolta in estate, in pineta e che ora si riproduce anche nel periodo natalizzo. La soddisfazione è vedere oggi questi bambini qua che si stanno divertendo, lavorano in gruppo, stanno lavorare da soli o insieme agli altri amici, stanno creando qualcosa di particolare che poi dopo gli esperti sapranno valutare meglio. Ci fermiamo per pochi istanti, tra poco ancora insieme con la pagina sportiva. Ben ritrovati dunque con lo sport, in primo piano questa sera c'è l'atletica, è stato anche quest'anno un successo la Coppa Santo Stefano che va in scena come ormai accade da oltre 60 anni a Vallecchia, Pietrasanta nel giorno della festività di Santo Stefano, grande partecipazione alla fine a spuntarla, è stato un giovane atleta marocchino ma è stata anche soprattutto una grande festa per lo sport. Vediamo il servizio di Guido Casotti. Jamali Mei o Mei Jamali, fate un po' voi all'insegna di un duello annunciato che nasce la 64esima edizione della Coppa Santo Stefano, una delle gare podistiche più longeve d'Italia che si sviluppa su un circuito di circa un chilometro e mezzo da affrontare quattro volte almeno nella gara elitta. Del resto un anno fa l'aveva spuntata l'alfiere dell'atletica Castello nei confronti del marocchino delle Alpi Aquane e in effetti le prime battute della corsa vedono Mei decisamente all'attacco con Jamali Sornione, bene anche Daniele Del Nista costretto però successivamente a ritiro ma col passare dei chilometri Mei accusa lo sforzo e viene prima raggiunto e poi superato nel finale dall'esperto nordafricano. La rivincita è consumata con i due che si invertono le posizioni rispetto al 2015. Sì, è bella gara, ho fatto tante volte in continuazione, tanto conosco il percorso, faccio sempre Santo Stefano. Gara bella, ha avuto un po' di personaggi come il Mei, come questo ragazzo marocchino Daniele Del Nista, siamo sempre soliti a questa gara. È bella, sono contento. Sì, sì, fa parte del gioco e oggi è stato molto bravo lui, ha gestito meglio la gara, io ho provato a partire forte e forse l'ho un po' pagata, però va bene così e quando una salta va più forte c'è da fargli complimenti e niente, cercare di batterlo la prossima volta. In campo femminile la vittoria è andata a Federica Baldini del Cuspisa, ammirevole ed esemplare come sempre anche la prova dell'intramontabile Vinicio Moriconi tra gli over 70 e il primo o tre meno giovani. Al via anche le categorie giovanili, ragazzi e allievi per un totale di oltre 100 atleti, soddisfatti i dirigenti dell'Atletica Pietrasanta che hanno organizzato la manifestazione in modo encomiabile. Una bella edizione, tante persone e un successo anche per l'Atletica Pietrasanta Versiglia, la polisportiva versiliese che hanno organizzato molto bene questo evento. Ed infine c'è anche chi come il pluricampione del mondo retro running Paolo Tarabella, la Coppa di Santo Stefano l'ha conclusa così. Adesso invece il calcio con la campagna acquisti del Viareggio 2014 che sembra non fermarsi dopo lo sciocco societario di alcune settimane fa che ha rimescolato le carte dentro l'azienda Zebrata. Vediamo il servizio. Alla rosa del Viareggio che il DS Sergio Russo sta riformando dopo le partenze di molti giocatori per le note vicende societarie si aggiungeranno ancora altri elementi. Alcuni di questi attualmente sono in prova ma potrebbero essere tesserati. I nomi più gettonati sono quelli del difensore Andrea Calisti classe 88 ex Lucchese Ghiviborgo e l'attaccante del 96 Domenico Vitiello ex San Remese. Da capire poi la posizione di Lorenzo Laras attaccante del 95 ex Pietrasanta che ha giocato nelle giovanili del Viareggio che è in prova da diversi giorni. Dovranno arrivare poi i giovani fuori quota alcuni dei quali da qualche club professionistico. Intanto mister Simone Giuri riprenderà gli allenamenti con l'ausilio del preparatore atletico Alberto Marzili per portare i giocatori neo arrivati nella migliore condizione fisica in vista della ripresa del campionato l'8 gennaio a Gavorrano dove mancherà per squalifica Mattei ma sarà disponibile Minichino. Venerdì alle 14.30 è programmata il buon riposo un amichevole con il seravezza dell'ex Lorenzo Fiale. Noi ci fermiamo per pochi istanti, tra poco ancora insieme con la terza parte e gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del Tg Versilia. Diamo uno sguardo al nostro sito web www.retversilianews.com che vi ricordo per rivedere le notizie e per seguire le aggiornamenti. In primo piano la visita al carcere di Lucca con il boom di detenuti versiliesi e poi vi segnalo anche questa notizia che ci viene inoltrata da alcuni telespettatori con la sosta selvaggia in centro a Viareggio ma soprattutto siamo in via Rosmini sulla mini pista ciclabile che è stata realizzata tra gli angoli di via Vespucci e via De Amicis, peraltro di fronte a due passi carrabili. È un tratto brevissimo di pista ciclabile dove peraltro vedete i mezzi vanno a fermarsi e a sostare il tutto appunto di fronte a due passi carrabili e l'interrogativo da parte dei residenti è appunto il senso di questa realizzazione e giriamo l'interrogativo all'istituzione chi di competenza. Prima di chiudere non ci sono altri aggiornamenti, c'è il momento degli auguri, in questo caso le felicitazioni e le congratulazioni per il giocatore del Cgc Viareggio, Xavi Costa, è nata infatti Alma, la piccola figlia di Xavi e di Sara, dell'attaccante del Cgc Viareggio. Arrivano gli auguri da parte di tutta la dirigenza bianconera del centro giovani calciatori e ovviamente anche le felicitazioni da parte di Rete Versilia News e di Noi TV. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.